La mia figlia è mia, le mettono le trizze e i figgini, guardate i russi, guardate, guardate. Anche più lente, perché sono anche più lente nel movimento, fai come se, a rallentatore, a rallentire. Ok, va bene, continuate, continuate, a sparare se vuoi. Sì, sparate, mi blocco, vai, 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 continuate così, continuate così, vai, continua. Ti stanno avvicinando però, eh, ti stanno avvicinando? Guarda le cose che diranno a cui hai, vai, con le armi, i fione, i colpelli. Sì, arrivo, sì.